Eccoci qua, allora cominciamo un po' a parlare di questo tema che è stato scelto per questa festa, dalle ferite la vita nuova. Questo tema è un po' paradossale, noi da una ferita abbiamo dolore, non abbiamo qualcosa che è nuovo. In genere noi cerchiamo di non avere ferite, cerchiamo di non essere vulnerati, siamo in un'epoca in cui abbiamo un culto del nostro benessere che è strabordante, cioè tutto quanto è stare bene, avere piacere, avere appagamento. Eppure siamo qui in un posto dove tutta questa gente viene per festeggiare un uomo che ha sofferto tanto, eppure quanta vita è venuta da questo uomo. Si potrebbe tranquillamente dire che non c'è uomo nel 1900 che abbia evangelizzato più di lui, è stato qui fermo in un paesino, peraltro anche con esperienze di calunnie, di rifiuto, e tanto dolore anche fisico e tanta gente ha trovato il Signore Gesù Cristo per mezzo suo. Cioè tanta gente va in giro, fa di tutto, si inventa biciclette con gli sportelli, come si dice a Roma, cioè le cose più complicate per fare così, e questo stava qui e semplicemente soffriva e credeva nel Signore e da queste ferite è venuta tanta vita. Guarda quanta gente che ci sta qui, guarda quante cose, quanta gente che poi chiede aiuto alla sua intercessione. Ecco, ma può essere che dalle ferite venga una vita nuova? Perché abbiamo ascoltato questa parola qui? Perché questa parola illuminerebbe questo tema? Vediamo un po' di capire. La prima lettura che abbiamo ascoltato viene dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, quando lui dà testimonianza della sua storia. Allora, Paolo non è sempre stato questo uomo qui di cui si parla qui, è stato un altro tipo di uomo, perché qui il problema è, viene la vita, ma che vita? Ma quante vite esistono? Esistono per caso, esiste più di una vita? Sì, esiste la vita che ce danno mamma e papà, e poi ne esiste un'altra di vita, quella che ti può dare Dio, quella che è totalmente diversa, quella che ha altri parametri, un'altra logica, funziona in un'altra maniera e nasce in un'altra forma. Non nasce normalmente come nasciamo tutti, non nasce dalla carne, nasce dallo spirito, nasce dal cielo, nasce da un'opera di Dio in noi. Ecco, e lui ha vissuto questa cosa qui. Voi pensate, questo qua era un fedele della esperienza, della fede, del suo popolo, e niente, sente che ci stanno questi seguaci di questo Gesù, che dicono cose diverse dalla sua idea. E come succede molto spesso nella vita, quando uno è convinto di una cosa, diventa feroce verso tutti quelli che non sono d'accordo con lui. E lui era feroce, era zelante nell'osservanza della sua tradizione religiosa, e si vede così, come certe volte uno se si convince di avere ragione, si può autorizzare a fare tutto. Tante volte tutto il male che possiamo fare nella vita, il male che facciamo agli altri, a chi abbiamo vicino, lo facciamo sempre pensando di avere ragione. Nessuno fa il male pensando, guarda come sono cattivo, adesso faccio una cosa sbagliata. Tutti pensano di fare la cosa giusta, tutti pensano di fare la cosa migliore, la cosa più esatta, e in nome di questo devono uccidere, devono far fuori. Allora lui collabora, da giovanotto entusiasta, alla lapidazione del protomartire di Santo Stefano. E niente, e questa cosa qui. Poi succederà, come sappiamo, che mentre va a Damasco per andare a incatenare e imprigionare i cristiani che sono a Damasco, una luce lo sbatte per terra, lui diventa cieco e finalmente vede. Cioè, quando diventa cieco inizia a capire cos'è la sua vita. Quando perde la sua maniera di guardare, certe volte Dio ci deve accecare per farci svegliare, ci deve dare uno sgambetto, farci fare un bel capitombolo, perché noi ci rendiamo conto di dove stiamo andando, di cosa stiamo facendo della nostra vita. Quante persone, solamente dopo un bel cazzotto che la vita gli dà, iniziano a ragionare in maniera più equilibrata. Ecco, e lui si rende conto che è un persecutore, Dio gli parla, Cristo gli parla. E lui, che si credeva un giusto, scopre di essere un assassino, scopre di essere un persecutore, scopre di essere un violento. Ed era convinto di essere uno... Questa è la sua cecità. Allora, finalmente è cieco, resta cieco. Ed è interessante che proprio il capo di quelli che lui andava a perseguitare lo libererà dalla cecità. Anania, il più importante dei cristiani che erano a Damasco, prende e gli impone le mani, prega per lui, lo chiama Saulo, fratello mio. Ammazza, ma questo te deve ammazzare. Ecco, no, compare una forma di esistere straordinaria, quella per cui non hai paura del nemico. Non perché tu sei più forte, non perché combatterai con lui, ma no, perché tu ti fidi di Dio, tu ti abbandoni nelle mani di Dio. Una cosa che qui si è data anche in Padre Pio, che quando era nel momento in cui veniva anche rifiutato, lui si fidava di Dio e mitemente accettava di consegnarsi nelle mani dell'obbedienza alla Chiesa. Questa è una cosa molto importante, cioè vedere la pace in chi sta soffrendo. Ecco, in questo si è manifestato meravigliosamente lo Spirito Santo in Padre Pio e in tante altre cose, logicamente. Ecco, e voi pensate, Saulo, che poi diventa cristiano, viene battezzato e inizia a predicare quel Gesù che un tempo perseguitava, che cosa sarà nel suo cuore il ricordo di aver ammazzato, aver collaborato all'uccisione di Stefano? Quanto lo avrà torturato sto pensiero, quanto sarà stato doloroso per lui. Eppure qui vediamo come lui può guardare a quel fatto. Lui ha una ferita, perché ci sono ferite di vario tipo, ci sono le ferite nel corpo e ci sono le ferite nel cuore, nello spirito. Le ferite nel cuore fanno soffrire molto di più, le ferite nel corpo fanno soffrire tanto perché la sofferenza fisica è brutta, cioè si sta male col corpo, ma quando hai il tuo spirito che è ferito, quello è proprio una tortura, quello è difficile da sopportare. E portare nel cuore il rimorso, il dolore di aver ammazzato un giusto, lo ha visto morire, lo ha visto reagire in maniera mite, appunto, come Stefano che mentre viene lapidato grida, Signore Gesù non imputare loro questo peccato, cioè prega per i suoi, esattamente come Gesù sulla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, che non vuol dire non si rendono conto di chi sono io, non è lei non sa chi sono io, no, no, è un'altra cosa, perché quando operano non sono consapevoli, non sanno quello che fanno e tante volte tutti i nostri errori li abbiamo fatti sempre pensando di avere ragione, invece avevamo torto e non sapevamo quello che facevamo. Quando lo sapranno, quegli stessi che lo crocifiggono, avranno il cuore ferito, si sentiranno trafiggere il cuore, racconta il capitolo secondo del libro degli Atti degli Apostoli, e allora si convertiranno al Signore Gesù. Ecco, lui ha visto l'uomo che lui desiderava vedere morto, ha collaborato alla sua uccisione, e si ricorda di questa cosa come se tu, una persona cara, una persona meravigliosa, che scopri sempre più nel tempo che aveva ragione lui, tu sei stato quello che lo ha fatto soffrire, e te lo ricordi e ci pensi. Questa è una ferita nel cuore di Saulo. Cosa diventa questa ferita? La sua esperienza dell'amore di Dio, la sua esperienza della misericordia. Io conosco tanti giovani che passano tutto il tempo a torturarsi perché hanno fatto degli errori, conosco tante persone, anche non giovani, che passano tutto il tempo a macerarsi, a punirsi, a rifiutarsi, a torturarsi. Perché? Perché hanno fatto delle cose sbagliate. E chi è che non ha fatto cose sbagliate? Non so se c'è qualcuno che non ha fatto errori stupidi, che non ha fatto cretinate nella vita, può tranquillamente venire qua, lo ascoltiamo perché me sa che non c'è, non credo che questa gente ci sta qualcuno che non ha fatto stupidaggini, che non si è sbagliato. La relazione con i propri errori è una delle cose più importanti della nostra struttura personale. La relazione con le proprie cretinate, con le proprie tontaggini, con le proprie fissazioni, con le stupidaggini fatte quando eri giovanotto, quando eri adolescente, quando eri maturo, adulto, quello che sia, le cattiverie che hai prodotto, ecco, quelle sono una tortura. E c'è la gente che passa tutta la vita a cercare di aggiustarsi, di rimettersi a posto. E invece Paolo, per l'opera dello Spirito Santo in lui, ha capito che cosa c'è da dire. Lui come parla di quell'errore, come parla di quel tempo della sua vita, come una cosa di cui si vanta addirittura, ma non perché ha sbagliato, per come Dio lo ha amato, perché attraverso questo debito mostruoso ha capito quanto è generoso Dio. La forza dell'amore di Paolo, che nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 innalzerà l'inno all'amore, il più bello che sia mai stato scritto, e qual è la sua forza? Che è stato amato. È stato amato quando aveva sbagliato. Quella ferita è diventata una sorgente, una sorgente che lui dice ma guarda quanto è tenero Dio con me, ma guarda quanto mi vuole bene Gesù Cristo. Io ho fatto delle cose terribili contro di lui e contro la sua Chiesa, perché Gesù gli dice esplicitamente, perché mi perseguiti. Chi sei, oh Signore? Chi ti ha mai visto a te? Infatti Paolo non ha mai incontrato di persona Gesù, ma ha perseguitato i cristiani e Gesù si identifica con i cristiani. Infatti dice il Vangelo, chi ascolta voi ascolta me, chi riceve voi riceve me, io vengo con voi. Noi siamo il corpo di Cristo, noi siamo la Chiesa, siamo il suo corpo benedetto e santo. Ognuno di noi deve smettere di guardarsi come un errore, ma deve iniziare a guardarsi, come diceva il grande George Bernanot in un libro bellissimo, Diario di un curato di campagna, guardarsi come un pezzo del corpo di Cristo sulla croce, guardarsi come una cosa santa, bella, importante, come te vede Dio. Tu come vedi tuo figlio? Tu come guardi un bambino? Io guardavo questi ragazzi, i più giovani che ballavano adesso, che tenerezza, ragazzi così giovani, quanti ci avranno avuto, dieci anni, una cosa di questo genere, che tenerezza guardarli, ormai sono vecchio, guardo con lo sguardo del nonno, vedo nipotini, vedo queste cose qua. Ma tu come, pensa, a me mi viene tenerezza a guardare questi bambini che danzano, guarda Dio come mi guarda a me, come ti guarda a te, come ci guarda a tutti, con che tenerezza. Puoi mai smettere di guardare con amore un figlio? Puoi mai smettere di guardarlo come una cosa bella? Anche se tutti dicono, ammazza che è brutto tu figlio, no? Ogni scarrafone si dice, no? Dio ti vede sempre come un capolavoro, un'opera d'arte, come una cosa bellissima. Ricordo una volta una mamma mi mostrava la foto di un suo bambino molto malato, con delle malattie gravi, con una forte disabilità, e mi diceva, ma lo vedi quanto è bello? Io guardavo sto bambino, ma lo vedi quanto è bello, quanto è bello? Io dicevo, beh, insomma, lei lo vedeva bello, e c'è ragione lei, chi lo vedeva? Lei lo vedeva, io non lo vedevo perché io non gli volevo bene, perché solamente chi ti vuole bene ti vede, solamente chi ti vuole bene ti capisce, quando ti senti capito ti senti amato, ecco, quando qualcuno capisce anche ti scusa in un certo senso, come lo stesso Paolo dice, l'amore è tutto scusa, tutto sopporta, ecco. Che succede? Che abbiamo tutti bisogno di fare queste esperienze di Paolo, che è l'esperienza di essere amati lì dove noi non ci sopportiamo, lì dove noi non ci amiamo, lì dove abbiamo tirato fuori il peggio di noi stessi. Perché questo è l'amore che poi si sperimenta nel sacramento della riconciliazione, di cui San Pio è stato un ministro meraviglioso. Questo sacramento splendido in cui si può toccare la paternità di Dio, che è capace di rigenerare, è capace di farti voltare pagina, tanta gente non sa voltare pagina, stai sempre lì a scrivere sulla stessa pagina. Io non lo so, quando ero bambino a casa mia c'era ancora il telefono, quello che ha la cornetta, cioè quello vero, il telefono col filo, quello che facevi il numero, ecco. E c'è stava il tavolino su chi stava il telefono, in un angolo della casa, di passaggio, e c'è stata un'agenda e tutti quanti se segnavano i numeri che gli venivano detti per telefono, così su quell'agenda, ma sai col telefono non te tenevi male, c'ho in una mano sola, nessuno mai girava pagina, c'era la prima pagina che c'erano tutti i numeri di questo mondo, tutti gli appunti erano ormai piena, zeppa. C'è presente uno che scrive, scrive sempre sulla stessa pagina. Ci sono alcuni che non voltano pagina da anni, ci sono alcuni che stanno sempre a scrivere sulle stesse cose, stanno a fare sempre lo stesso discorso. Non so che gli stavano a fare un applauso a questi. Noi gli fanno nessun applauso a questi soggetti qua, perché stanno a sprecare la vita, la vita così preziosa che hanno. Mi ricordo che c'erano certi numeri, che dentro c'erano altri numeri, uno sfruttava un 8, particolarmente grande uno 0, iniziava a scrivere dentro e poi usciva fuori. E così. Volta pagina, mi ricordo una volta così, butto giù il telefono, giro la pagina, piego così, metto una cosa, una molletta lì, e il giorno dopo tutti, oh, oh, posso scrivere, no? Ecco, ricomincia a scrivere. Gira pagina, smetti la testa fissata su una cosa, sullo stesso errore, sulla stessa idea, sulla stessa cantonata che hai preso, quando c'era il governo Crispi, tu hai fatto sta cretinata ancora da stare, guarda sempre a pensare a quello, c'avevi, che ne so, 10 anni, così hai fatto una cretinata, c'avevi 20 anni. Tutti tirano fuori presto o tardi, la loro parte è storta. Ecco, e perché abbiamo ascoltato questo Vangelo a proposito di tutto questo? Perché c'è un'altra ferita di un altro uomo. Io dico sempre, essendo romano, penso che si senta, no? Ecco, Roma ha i suoi patroni, sono Pietro e Paolo. Cioè, i patroni di Roma, della diocesi che fa da presiede nella carità a tutta la Chiesa, ecco, se basa su un assassino e un rinnegato, allegria. Cioè, possiamo tranquillamente rassenerarci, ci abbiamo posto pure noi, ecco, possiamo starci pure noi. Un assassino, cioè Paolo, e un rinnegato, uno che ha rinnegato il Signore, uno che, niente, l'ha rinnegato in faccia, peraltro ha tiro d'orecchio. Dice il Vangelo di Luca che quando Pietro dice per la terza volta io non so chi è quell'uomo, non lo conosco, il Signore si voltò e lo guardò. Cioè, vuol dire che erano a tiro d'orecchio, cioè l'ha guardato, è voltato e l'ha guardato. E è uscito Pietro, piansi amaramente. Ecco, questo è molto importante. Lì c'è un fatto che nel Vangelo di Giovanni viene raccontato, il tradimento non viene raccontato a quest'altra parte. Poi questo è quando Gesù è risorto e dopo un po' di tempo compare, dopo una notte che stanno a pescare e non pigliano un'acciuga e stanno lì tutto quanto a pescare e niente, all'alba, quando ormai i pescatori devono tornare perché è inutile che continuino a cercare di prendere il pesce, un tizio sconosciuto dalla spiaggia gli dice ragazzi, c'è la traduzione dice figliuoli, vuol dire ragazzi, non c'è niente da mangiare, è una domanda ritorica per metterli in imbarazzo, non c'è niente da mangiare, è data male la pesca, è come se, che ne so, qualcuno prende in giro un italiano e gli dice oh, come sono andati gli europei quest'anno l'Italia, bene, eh, com'è andata lei gli europei? Dice, ma se puoi veramente girare il cortello nella piaga qui, insomma, sono andati male, sono stati buttati fuori, non vale mu niente, ok, allora, e gli dice, gettate le reti da parte della barca e troverete, e questi ci provano e effettivamente pescano un sacco, allora ci sta il discepolo amato sulla bacca e dice, vabbè, ma scusa, buttiamo le reti dalla parte sbagliata e peschiamo, questo è il Signore, cioè scusa, è due più due, chi è che fa queste cose? Questo è il Signore, ma il Signore e Pietro tutto contento si butta e a nuoto torna a riva e poi portano tutti i pesci che hanno pescato e c'è il Signore che ha preparato già dei pesci lui, cioè della brace e stanno mangiando, mangiano, facendo incontrare i pesci che loro hanno pescato più quelli che pone il Signore, ecco, e allora Gesù inizia a fare questa tortura a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Dice, ma, un momentino, aspetta, gli domanderà tre volte, mi vuoi bene, mi ami, mi vuoi bene, ma che c'ha? Le carenze affettive Gesù Cristo, cioè, che gli è preso? Sembra quella fidanzata che ti dice, quella tua moglie che ti dice, ma tu non mi dici mai che mi ami, ma te l'ho detto tre anni fa, tranquilla, vabbè, ma ogni tanto, sai, se ripeti un attimino, mi fai un ripassino, insomma, mi ricordo meglio, ecco, ci stanno quegli uomini che bisogna battergli sulla schiena, forza, forza, sputa, te voglio bene, oh, già l'ha fatta, cioè, uomini un po' stitici di parole, no? ecco, allora, perché Gesù gli chiede tre volte, mi vuoi bene? E forse che la terza volta che gli lo domanda, Pietro si fa triste, dice, mamma mia, ma che, ma non mi ha capito, cioè, perché si fa triste? Ecco, perché Gesù cercava quella tristezza, gli riapre la ferita, perché? Perché presso un fuoco, tre volte, Pietro lo ha rinnegato, ed è interessante, e qui non c'è niente che sia banale di questa parola, qui, come sempre la parola, io dico una cosa brutta, cioè, la parola di Dio è come il maiale, se butta niente, serve tutto, tutto quanto è utile, ecco, allora, qui non c'è una virgola che sia banale, questa è una parola molto densa e pregnante, Simone di Giovanni, perché lo chiama così? E non Simon Pietro, mentre l'Evangelista dice, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, perché? Perché sta cosa? Perché Simone aveva una vita, era figlio di un tizio che si chiamava Giona, Giovanni, lo chiamiamo Giovanni, ecco, vuol dire che era figlio di suo padre e poi aveva incontrato Gesù e incontrando Gesù aveva cambiato vita, aveva avuto una vita che aveva voltato pagina, aveva iniziato a scrivere un'altra storia, prima faceva il pescatore, poi faceva, poi dopo doveva imparare a fare il pescatore di uomini e doveva seguire il Signore Gesù, non più se stesso o non se sa che cosa, ecco, allora lo richiama col nome vecchio, che è una cosa un po' triste, no? è come se tu, che ne so, sei diventato il direttore di una ditta e il padrone ti chiama allora dipendente, non è il direttore, signor dipendente, ma come ero il direttore, oppure che ne so, sei diventato l'incaricato generale, sei diventato il CEO, come si dice adesso, Sembra un saluto, CEO, amministratore delegato, sei amministratore delegato, ti chiamano dipendente, come dipendente, amministratore delegato, ecco, lo retrocede alla vita prima, lo chiama tre volte col nome di suo padre, figlio di Giovanni, cioè, con il nome della sua antica storia, e gli dice, tu più di costoro, ecco, su sta frase mi permetto di spiegarla un attimino in maniera un po' diversa da come normalmente la si intende, cioè, che gli sta chiedendo Gesù? Mi api più di loro? Cioè, che è la classifica? Chi ama di più? Famo a... Cioè, un po' ricorda il fatto che lui diceva, aveva detto, sempre in Giovanni, al capitolo 13, nell'ultima cena, se anche tutti ti abbandonassero, non te lascerò mai, perché io so quello vero, io so autentico, con me, cioè, io so un discepolo doc, col copyright, diffidato dalle meditazioni, cioè, so un vero discepolo, ma è vero? Gli sta domandando Gesù, ma è vera questa cosa? Ma in realtà, nel greco, il testo qui, costoro, in realtà, è un plurale, che potrebbe essere anche il neutro. Mi ami più di queste cose? Quando nel Vangelo di Marco, il più antico dei Vangeli, Gesù chiama Pietro, insieme a suo fratello Andrea, li chiama a lasciare tutto e a seguirlo, e lasceranno la barca e le reti, che ha fatto Pietro quel giorno e è tornato alla barca e alle reti, e ora sta lì con la barca e le reti, e gli dice, ma tu, mi ami più delle tue cose, di queste cose? È un altro tipo di logica, cioè, ma non è che ti sto a chiedere, il primato, che sei il miglior amatore dell'anno, vinci il premio Nazareth anno 33, che ne so, ecco, no, è che, ma tu mi ami più delle cose di questo mondo, di queste cose, più di tutti questi pesci, ha fatto la pesca miracolosa, è il famoso primato di Pietro, 153 grossi pesci, è il suo primato, ecco, infatti quello è il momento del primato, allora, mi ami più di queste robe qui? È certo, signore, certo, lo sai, io so, se me è io canso, io so quello forte, io so quello che è serio, e come no? Ah, pasci miei agnelli, ci occupati delle mie cose, gli disse, di nuovo per la seconda volta, Simone figlio di Giovanni, e gira, dipendente, operaio generico, e non amministratore delegato, non il primo dei dodici, mi vuoi, mi ami? Cioè, mi vuoi bene? Certo, lo sai che ti voglio bene, allora, in realtà Gesù dice, mi ami, e lui risponde, te voglio bene, mi ami, e di più, devo voler bene, certo, signore, lo sai che ti voglio bene, certo che ce lo sai, ce lo sai, a Roma te direi bravo, ce lo sai che questo, ecco, gli disse, per la terza volta, Simone figlio di Giovanni, sempre quello, mi vuoi bene, scende al suo livello, ma anche, volemme bene, certo dici, mi vuoi bene, vediamo un po', ma è proprio vero, Simone, Pietro, che è Pietro, rimasi addolorato, che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene, perché fa questa cosa, per ricordargli che tre volte lui l'ha rinnegato, e lui è addolorato, certo, mamma mia, io sto lì, qui che faccio, che faccio, erbullo, e invece io sono un cretino, ho fatto un sacco di stupidaggi, ammazza come ti ho tradito, che delusione che sono stato, mamma mia, che macello, ecco, e infatti per la prima volta non parte da sé, non dice, io, io, io so, no, dice signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, allora, qual è il problema? cioè che lui deve avere questa tristezza, questa tristezza è la ferita, è il ricordo della sua grande stupidaggine, dobbiamo considerare una cosa, Pietro nella chiesa del primo secolo aveva un'autorità pazzesca, era il principe degli apostoli, chi è che sa del suo tradimento? Solo lui, come mai noi lo sappiamo? In tutti e quattro i Vangeli viene attestato che lui ha rinnegato il Signore tre volte, chi l'ha raccontato? Lui, se voleva nascondere la vergogna, avrebbe nascosto, lui non l'ha nascosta, lui ha sempre raccontato sto fatto, dovunque si annuncia il Vangelo, si racconta che il primo degli apostoli ha fatto un capitombolo da paura e si è perso e ha rinnegato il Signore, ecco, e questo vuol dire che cosa? Che Pietro ci ha tenuto che questo si sapesse, è parte del Vangelo sapere che chi porterà il Vangelo è uno che prima ha dovuto sperimentare qualche cosa, ha dovuto sperimentare una ferita e il Signore lo incontra dopo la resurrezione e si mette lì e gira il coltello nella piaga perché lui arrivi alla tristezza, perché? A cosa serve quella tristezza? Quella tristezza è la sua ferita e deve sperimentare che il Signore lo sta eleggendo malgrado quella cretinata che lui ha fatto, malgrado quella vergogna che lui ha. Questa vergogna è in realtà la cosa che gli dà attestazione certa che lui può essere quello che non si dava il diritto di essere, lui voleva sempre dimostrare di essere più forte, lui era il primo, se anche tutti gli altri gli da dissero io non lo farò mai, io so il meglio, cioè era quello che dava le risposte pronte, che rispondeva giusto al momento, ecco, lui non ammetteva di se stesso di dover fallire, di poter fallire, e io vi dico una cosa così poveramente, ve la dico anche sulla base della mia povera esperienza di uomo, bisogna accettare che c'è il momento che uno fallisce, che uno sbaglia, che uno fa una cretinata, che uno non è forte, c'è un momento in cui non ce la fai più, c'è un momento in cui sei un pizzico, a Roma si dice sei un pizzico, cioè sei ridotto a niente, c'è il momento nella vita in cui la vita ti sbatte giù a zera ed è un momento molto importante, e quel momento è un punto di partenza, è l'inizio di una storia, è quando volti pagina per l'appunto, è quando inizi a scoprire cosa può fare il Signore, perché fino a quel momento facevi tutto tu, per me è stato molto importante passare per la malattia, io ero forte, tosto, così, sveglio, pieno di energie, pieno di creatività, e poi un momento mi sono trovato che, paffede, arriva un tumore, e vieni azzerato, e poi te ripichi così, come puoi, così ricomincia, poi te ne arriva un altro, dici mamma mia, oh, che diamine, e poi me stava ripiglia, stavo imparando così a sopravvivere a tutti questi problemi, paffede, mi è arrivato un ictus, uno dice ammazza, tu c'hai avuto un ictus? Sì, siccome sono bravi i medici, guarda come mi hanno rimesso in piedi, mi hanno salvato e poi mi hanno riabilitato alla cosa, e poi dici, beh, ormai la tassa ho pagato, no, me ne è arrivato un terzo di tumore, e niente, e io adesso so debole, io non so forte, qui sanno questi frati quando hanno dovuto insistere per farmi venire, perché io adesso non mi muovo più, perché so talmente sgarato, che a me come mi muovi mi rompo, cioè così, so fatto dei cristalli, no, applaudiamo che, cioè, un applauso al tumore, ecco, ecco, allora, io sto adesso in una fase della mia vita molto molto bella, importante, di cui benedico il Dio profondamente, sono debole, non ce la faccio più, sono stanco, e sono molto molto limitato, e questo è il momento in cui il Signore mi dice, oh, adesso mi fai lavorare a me, finalmente, adesso ti metti da una parte, e adesso mi fai fare cose, perché c'è una cosa, noi al Signore gli facciamo fare molto poco nella nostra vita, perché cerchiamo sempre di risolvere tutto noi, siccome siamo ansiosi, no, io dico sempre che c'è stata una cittadina vicino Roma, da cui sono nate tutte le stirpi, cioè, se dice in un salmo che tutte le genti sono nate a Gerusalemme, su un monte del Tempio, no, tutte le genti vengono da Ansio, a città degli ansiosi, mamma mia, quanta gente che vive di ansie, ecco, per la nostra ansia dobbiamo sempre risolvere tutto, dobbiamo sempre aggiustare tutto, rimettare a posto tutto, so se siete presente quelle persone che quando ti parlano ti piluccano, ti mettono a posto e io dico, buono che hai le mani, io mi piaccio così, peloso, che te frega, ma lasciami un po', perché me devi rimettere a posto, passi la vita e rimettere a posto, il giorno che sei debole, accetti che gli altri ce stanno e che sono bravi, dai spazio agli altri, quanta gente che deve fare tutto lui, ci stanno quelli che stanno lì, stanno tirando le cuoie, oppure no, tutto devo, averlo in mano io non cedono, abbiamo una gerontocrazia in onda, in tanti posti, e fai passare, adesso sono contento che ho un bravo prete che mi aiuta, è più bravo di me, io lo stimo tantissimo, e sono contento, fra poco ci sarà l'ordinazione di un gruppo di diaconi bravi, io spero che, tanto loro cominciano dove io finisco, ma sia benedetto il Dio perché siamo deboli, io voglio sempre un diritto, dico sempre alle persone a cui annunzio il Vangelo, voglio il diritto, uno, di sbagliare, perché so, ho un uomo che può sbagliare, e tante volte l'ho fatto, due, di morire, ma mi fate andare una volta col Signore finalmente, finisco di faticare, ecco, no, stavo lì, insomma, stavo rischiando, tutti a pregare, io dico, mazza di disgraziati, una volta che stavo a far salto quello buono, eh, mannaggia, che andavo a fare il viaggio quello migliore di tutti, vabbè, che tocca fare, ecco, non avere paura delle tue ferite, le tue ferite sono lì dove Dio può aprire una vita nuova, può operare, non avere paura della tua debolezza, tutti a odiare i propri limiti, mannaggia, ma perché sta cosa? Ma noi siamo limitati per natura, per costituzione, siamo fragili, siamo vulnerabili, e da quando siamo alti così che rifiutiamo di essere deboli, e passiamo tutto il tempo a cercare di scappare, trovando qualcosa di sicuro, e allora iniziano le stupidaggini grandi, allora ti fidi, cerchi i soldi per essere più sicuro, cerchi la stima degli altri per essere più sicuro, e ci stanno i ragazzini che si mettono a fare gli imbecilli, i balletti a TikTok, e si trovano a fare delle gretinate, perché? Perché devono avere i like, devono essere qualcuno che ti dice, ti do il diritto di esistere, ti ho messo un like, sai che ti cambia nella vita, e tutti quanti ha cercato di sopravvivere alla propria fragilità, e invece la fragilità è una cosa buona, è lo spazio di Dio nella nostra vita, e i tuoi errori, i tuoi peccati, sono lo spazio dell'amore di Dio nella tua vita, gratti, gratti, sotto i tuoi peccati ci trovi la pazienza di Dio, ci trovi la sua tenerezza, noi dobbiamo smettere di annunziare una vita cristiana che è fatta di opere vincenti, che siamo bravi, che ci vantiamo, facciamo una cosetta e dilla a tutti, dobbiamo mettere i cartelloni che abbiamo fatto una cosa azzeccata, per caso, perché ci è capitato, la vita cristiana è fatta della potenza di Dio, non è fatta del fatto che noi siamo bravi, ma del fatto che è bravo Lui, ma voi guardate, appunto qui, un uomo sofferente, vulnerato dalle stesse piaghe di Gesù, è stato qui e ha evangelizzato come nessuno nel secolo scorso, e ha emesso una sorgente di vita pazzesca, ed era debolissimo, ed era un uomo limitato, non era un uomo di spaventosa cultura, non so che cosa, ecco, questo fatto mi diceva oggi molto bene, un fratello, un frate qui, giustamente, mi diceva questa cosa, che padre Pio resta sempre padre, cioè non si riesce a togliere questo padre, san padre Pio, non si è più come chiamarlo, padre Pio, san Pio, san padre Pio, ecco, perché è padre, perché era padre, generava la vita, eppure era debole, era fragile, ti immagini un padre, ti immagini uno tosto, un vincente, uno che azzecca ogni colpo una tacca, insomma, e invece no, era debole, era fragile, è stato anche rifiutato, è stato messo in umiliazione, costretto a celebrare, in maniera nascosta, ecco, ma chi ti ha detto che i problemi tuoi sono scalogne, i tuoi problemi sono la tua occasione per fidarti di Dio, la tua occasione per fare un salto nella fede, la tua occasione per abbandonarti alla sua opera, smettila di essere il centro della vita, fidati di Dio, lascia che lui faccia qualcosa con te, le cose migliori le fai quando te fai aiutare, c'è stanno quelli che prima ti chiedi aiuto devono strippare, devono tirare le cuoie, devono stare lì, sto morendo, ho bisogno di aiuto, oh, gli ha affatto a chiedi aiuto, ci sono quelli che no, devono sempre affermare la propria autonomia, ma quanto sei fesso, ma quanto sei scemo, ma conviene tanto più fassi aiutare, ma conviene tanto più chiedi aiuto, conviene tanto di più dire sono debole, ho bisogno, le tue debolezze non sono solamente lo spazio di Dio nella tua vita, ma sono lo spazio pure degli altri nella tua vita, per amarti, per volerti bene, e così, quando vorrai bene a qualcuno, tu pensa che c'è qualcuno accanto a te, che ha bisogno del tuo aiuto e non te lo chiede come ci resti male, come te dispiace, ma perché, perché non mi hai chiesto aiuto, l'avrei fatto molto volentieri, ma perché, ma non te fidi che te voglio bene, ecco, noi frustriamo Dio continuando sempre a agire come se noi fossimo tutto, come se tutto dipendesse da noi, e invece tutto dipende da Lui, bene, io non so se, mi fermerei qua, non lo so perché, noi gli amiamo, ecco, allora, come no, bene. Bene.